Lavoratori Alba in stato di agitazione dopo la mancata convocazione di un tavolo per discutere delle problematiche riguardanti la municipalizzata che si occupa di igiene e manutenzione sul territorio di Battipaglia. A comunicare la decisione le tre sigle sindacali CGL, CISL e WILL che hanno richiesto anche una convocazione in prefettura. Alla base della protesta, oltre alla questione del passivo accumulato dalla società, vi è il tema dei contratti di servizio. Su tali contratti vi è già l'accordo in sede di confronto, ma manca il passaggio politico istituzionale in giunta o in consiglio per renderli pienamente operativi.